Una cosa alla volta Pronti con la prima telefonata, pronta? Pronto, pizzeria Zagazzo? No, questo è il mago, Zagazzo Ascolti, io vorrei una pizza semplice, però me la fa con l'aggiunta di doppia mostanella di bufala, carciuffini, olive tonno, bresaola, prosciutto cotto, prosciutto crudo, olive, grana a padano, polpa di granchi, poi non so cos'altro mi può aggiungere Ho due tazanetti, te li metto